Vi presento Teddy, Teddy è stato salvato a San Ferdinando in provvigio di Reggio Calabria con seri segni di maltrattamento legato alla catena con una gastroenterite brittissima e niente faccio questo appenno a chi riesce a vedere questo video sperando che possono dare una mano a Teddy perché veramente merita veramente tanto Teddy ha circa un anno maschietto e di una dolcezza incredibile vi chiedo solo di aiutarci e soprattutto di aiutare Teddy grazie da me e da Teddy questa è proprio la mia passione cioè io innanzitutto sono partita aiutando comunque gli erbivori e poi comunque ho cominciato ad aiutare anche i cavalli, i cani perché veramente la sofferenza comunque qua non c'è distinzione non è che comunque in Calabria che c'è l'abbandono del cane e basta no no si parla di cani, di gatti, si parla di caprette si parla di anche di maianini a volte comunque si trovano anche quelli tavalli e niente comunque alla fine sono rimasta aperta per questo mio cuore comunque mi ha fatto comunque innamorare di queste meravigliose creature che possono essere per in quei cavalli, i cani, i gatti mi raccomando datemi una mano che insieme si può fare veramente tantissime cose